Tutto comincia un anno fa, in un posto in cui non sono mai stato e che ha pure un nome del cazzo, Cesenatico. Marisa è stanca e non vuole andare al falò. Marika però insiste, dice che probabilmente al falò ci sarà Maurizio. Conosciuto in spiaggia quella mattina stessa e molto apprezzato da Marika per il suo innegabile talento nel giocare a racchettone. Ma non conosco neanche nessuno, dai, che cosa vengo a fare? Dai, stiamo solo mezz'ora. Lo sai quanto mi piace? Fallo per me. Se Marisa fosse stata più risoluta, io non sarei stato bocciato. Va bene, però stiamo solo mezz'ora. Raffaele, detto Lello, amava trascorrere le vacanze in giro con il suo furgoncino adibito a Camper. L'obiettivo è arrivare in Marocco a ottobre e andare sempre più a sud a inseguire l'estate. In teoria avrebbe un mezzo appuntamento a Cervia con dei suoi amici di Berlino Ovest, ma arrivarci sembra abbastanza complicato. Lello, che faceva del fatalismo una ragione di vita, cambia i suoi piani verso un destino sconosciuto. Se Lello avesse seguito il piano originale, io non sarei stato bocciato. Marisa, che fino a quel momento era stata solo con Riccardo Bettelli, non aveva mai incontrato un ragazzo bello e sensuale come Lello. Senti, ma mi ci porti con te in Marocco? Sì, sì, certo. Ora capiamo, Lello. Se Lello e Marisa quella sera avessero preso precauzioni, io non sarei stato bocciato. Sono proprio contento di questo furgone. La ringrazio davvero. Eh, tanti ricordi. Sì, eh. Magari gli cambio colore. Questo colore l'ho fatto per andare in Marocco. Ah. Però faccia lei. No, no, per carità. Va bene così, lo tengo così. Grazie allora. Arrivederci. Arrivederci. Eh? Hai visto che bomba di macchina? Ma perché hai comprato questo cesto? C'è una puzza tremenda. Intanto a noi il negozio ci serviva tantissimo. E poi un affare così quando ci ricapita più. Ti ricordi Raffaele, il figlio del Gianca? Quello che era uno spirito libero, viaggiava, suonava. Oh, quest'estate ha messo in cinta uno di Lodi. Ora fa il commesso dal Bonelli, il negozio di litro domestici in centro. E quindi il furgone non gli serve più. Che fai? Vado a prendere un arbre magique perché in effetti c'è una puzza tremenda. Vado a prendere un'arbre magique perché in effetti c'è un'arbre magique. Se Marika non avesse convinto Marisa, se Lello non avesse mancato l'uscita, se avessero usato protezioni, ma soprattutto se Lello non avesse dimenticato la più bella cassetta del mondo nello stereo del furgone che ha venduto a mio padre, il punk non mi avrebbe cambiato la vita e io non sarei stato bocciato.